I talebani sono entrati a Kabul, capitale dell'Afghanistan, senza trovare resistenza. Attendono ora l'annuncio ufficiale del passaggio dei poteri. Non è al momento chiaro se il presidente Ghani, che ha esortato le forze di sicurezza a mantenere l'ordine, si trovi ancora nella capitale. Da questa mattina in corso l'evacuazione di tutti i diplomatici statunitensi e dell'Unione Europea. Gli italiani partono dalla serata di oggi. Contrariamente a quanto previsto dall'intelligence americana, i talebani hanno riconquistato in pochi giorni l'Afghanistan. 20 anni di occupazione cancellati, come spiegato dal Pentagono, a causa delle forze afghane definite corrotte, incompetenti e piene di spie e disertori. Adesso ci si interroga sulle prospettive del paese al governo del quale dovranno sedere i talebani. Il governo rimarca quanto il Green Pass sia utile e importante per la sicurezza, ma non mancano le polemiche dopo i chiarimenti sull'estensione dell'obbligo per accedere alle mense aziendali, sia pubbliche che private. Rettifiche anche sull'accordo raggiunto per la scuola. I docenti si devono vaccinare. Tamponi gratis, solo per i lavoratori fragili, non per i Novax, precisa il ministro Bianchi. Non si rimedia i danni di un incendio appiccandone un altro, dice il governatore della Sardegna Solinas nel concerto ad Olbia del rapper Salmo, criticato da Fedez e da moltissimi altri colleghi per la violazione di ogni regola. Oltre 5.000 persone presenti, senza mascherine e distanziamento, nella bufera anche l'amministrazione comunale. Il sindaco si difende, non sono mancati controlli, dice, mentre la procura di Tempio Pausania si ha aperto un'inchiesta. A una settimana dal fisco d'inizio del campionato, il club ha il lavoro per mettere a punto gli organici. Nell'Inter, Dzeko va subito in gol inamichevole con la Dinamo Kiev e proprio per rimpiazzare il bosniaco, approda oggi a Roma la corte di Murigno a Abram, proveniente dal Chelsea. In uscita Florenzi, ai dettagli per il passaggio al Milan. Una buona giornata, una buona domenica, un buon ferragosso dal telegiornale della Sette. Un ferragosso con i fari puntati, quelli della comunità internazionale, sulla situazione in Afghanistan. Un paese sempre più nelle mani dei talibani, compresa dalle cronache degli ultimi minuti, anche Kabul. La situazione nella capitale è quella attesa da giorni, con l'avanzata delle forze islamiche, che non ha trovato opposizione e resistenza. C'è una situazione drammatica che riguarda gli sfollati, ma anche i civili che con ogni mezzo stanno tentando di lasciare la capitale. Poi naturalmente c'è una transizione che deve avvenire, a quanto pare, secondo le garanzie e le ultime analisi senza violenza. Cerchiamo di capire, e poi andremo anche alle situazioni degli italiani sul posto, qual è la situazione. Lo facciamo con la corrispondenza della nostra collega Francesca Mannocchi. Cominciamo da qui. Sono le 2.30 a Kabul. Io mi trovo in questo momento nell'aeroporto Karzai della capitale afghana. Siamo appena arrivati in elicottero dalla sede dell'ambasciata italiana a Kabul. Il rumore che sentite è quello degli elicotteri che da ieri sera incessantemente evacuano il personale delle sedi diplomatiche. Il ponte aereo dall'ambasciata americana è stato ininterrotto da ieri sera e per tutta la notte come abbiamo potuto sentire dall'ambasciata italiana dove per ragioni di sicurezza abbiamo trascorso la notte. È appena arrivata la notizia delle dimissioni del presidente Ashraf Ghani. Si susseguono informazioni tutte da verificare che danno Ghani in uscita dal paese. L'Afghanistan va verso un governo di transizione a guida talebana. Anche sulla presenza dei talebani in città ci sono state notizie contrastanti per tutta la notte e ancora per tutta la mattina. Ieri notte è arrivata la notizia dell'assalto alla prigione in un quartiere alla periferia ovest della capitale a circa 12 chilometri. I talebani avrebbero assaltato la prigione come hanno fatto in tutte le province e i villaggi che hanno conquistato in una offensiva militare che nelle ultime due settimane li ha portati al controllo totale del paese liberando naturalmente i prigionieri che erano all'interno della prigione. Stamattina alcuni giornalisti locali parlavano di un assalto al palazzo presidenziale e invece di pochi minuti fa una foto tutta da verificare che darebbe Ashraf Ghani abbracciato a un leader talebano in un passaggio di consegne che apre a un futuro drammatico per questo paese e le ultime parole le vogliamo spendere per gli afghani che stamattina si sono svegliati qui a Kabul col desiderio di poter uscire da questo paese e l'impossibilità di farlo. Questo è uno dei fronti dell'emergenza che naturalmente riguarda le persone che non hanno mezzi per scappare pensate che ci sono colonne di auto dirette alla capitale ma anche cittadini che semplicemente lasciano l'auto e si avviano a piedi più lontano possibile da quella città ormai circondata e assediata. Poi naturalmente c'è la transizione politica per quanto ne sappiamo fino a qui e soprattutto anche la possibilità e la necessità di evacuare i cittadini stranieri gli italiani proviamo a vedere qual è la situazione e come si è organizzata la farnesina. Colonne di fumo si alzano nei soborghi di Kabul vent'anni dopo l'ingresso in Afghanistan della coalizione a guida americana i talebani sono ad un passo dalla riconquista del paese. Un convoglio di auto con talebani a bordo secondo fonti ufficiali un'ora fa ha attraversato le strade di Kabul negoziatori diretti verso il palazzo presidenziale per preparare il trasferimento di potere. Fonti ufficiali riferiscono soltanto di colloqui tra il presidente, il mediatore americano e i vertici della Nato. Ghani dovrebbe abdicare già nelle prossime ore il potere passerebbe nelle mani dell'ex ministro dell'interno ed ex ambasciatore in Germania Ali Ahmad Jilali. I talebani hanno fatto sapere di non voler usare la forza e per questo è stato ordinato ai miliziani di non attaccare Kabul. Rispetteremo i diritti delle donne compreso quello allo studio avrebbero affermato poco fa. L'attuale ministro dell'interno afgano Abdul Sattar Mirza Kawal questa mattina ha assicurato che ci sarà un passaggio di consegne di potere pacifico verso un governo di transizione ma la popolazione terrorizzata sta scappando da Kabul in auto e anche a piedi temendo la vendetta talebana per chi ha collaborato con il nemico. Quel che è certo è che la situazione è precipitata in poche ore smentendo tutte le previsioni l'esercito governativo si è come sbriciolato sotto l'avanzata fulminea degli studenti coranici che hanno conquistato 26 delle 34 province afghane senza incontrare resistenza o quasi dopo il ritiro delle truppe occidentali dal paese. Gli occhi e gli obiettivi del mondo sono concentrati ora su questo palazzo la sede dell'ambasciata americana Kabul dove gli elicotteri Chinook fanno la spola con l'aeroporto per evacuare tutto il personale entro le prossime 72 ore. E lo stesso stanno facendo anche altri paesi Italia compresa ora che le più importanti città dell'Afghanistan sono cadute nelle ultime ore era stata conquistata anche Jalalabad e poi Bamiyan famosa per i Buddha distrutti proprio dai talebani esattamente 20 anni fa. Stessa sorte per il distretto di Bagram sede della base aerea che i Stati Uniti e Nato avevano riconsegnato all'inizio di luglio all'esercito afghano e dove ora è tutto nelle mani dei Mujahedin come la residenza di Abdul Rashid Dostum che avrebbe dovuto difendere Mazzari Sharif il signore della guerra che secondo i media locali sarebbe già scappato in Uzbekistan. La BBC proprio pochi istanti fa riporta una delle prime dichiarazioni pubbliche di rappresentanti talebani che confermano abbiamo circondato la città. La CNN invece racconta di come ci sarebbero anche alti funzionari afghani in coda per partire dall'aeroporto per scappare a confermare in qualche modo quella linea di assoluta mancanza di resistenza rispetto all'avanzata talebana e quello a cui si appiglia il presidente americano Biden 20 anni di occupazione sbriciolati un paese in ginocchio a cui è andato peraltro anche il pensiero commosso questa mattina di Papa Francesco nell'Angelus 90 giorni per la caduta di Kabul avevano detto gli americani all'inizio della settimana ormai passata sembrava una catastrofe ed invece la realtà è andata oltre i talebani sono già nella capitale afghana e l'amministrazione Biden è stata costretta a rimandare sul territorio in tutta fretta 5.000 soldati per proteggere la via dell'aeroporto in una corsa forse nata ad evacuare almeno i propri diplomatici è il fallimento più completo di 20 anni di occupazione i documenti che escono dal pentagone pubblicati sui giornali americani danno un quadro reale dello stato delle forze afghane definite nero su bianco una calamità incompetenti corrotte piene di disertori spie se li equipaggiamo si legge sono pronti a vendere le armi al miglior offerente se organizzano un posto di blocco lo fanno non per la sicurezza dei cittadini ma per taglieggiarli su queste basi nessuno si deve stupire che i talebani abbiano conquistato il paese in pochi giorni spesso senza neanche combattere Washington tuttavia non può come sta facendo puntare il dito solo sugli afghani se si pensa come scrive Newsweek che proprio tra Afghanistan, Iraq e Siria gli Stati Uniti hanno perso circa un miliardo di dollari in armi sparite dal loro controllo tutte le amministrazioni hanno avuto la loro dose di colpe cresciute come una valanga che ha travolto il paese a partire da chi ha voluto l'invasione Bush e Cheney che ancora prima di costruire uno stato funzionante lo hanno abbandonato per invadere l'Iraq a Obama che ha cominciato il disimpegno nella ricostruzione già nel 2011 e che nel 2014 dichiarò finiti combattimenti pur sapendo che in Afghanistan si continuava a morire ogni giorno a Trump che ha deciso l'uscita americana senza valutare la situazione sul campo fino a Biden che ha avallato l'idea del suo rivale commentando io non sento di avere alcuna responsabilità alla presenza americana senza fine e inaccettabile soprattutto per vent'anni gli Stati Uniti hanno permesso ai talebani di riorganizzarsi di riarmarsi addirittura li hanno accettati come forza politica all'interno del dibattito afgano scordando di avere a che fare con fondamentalisti islamici che hanno in spregio ogni basilare diritto umano e puntano solo alla costruzione di uno stato islamico come quello che abbiamo conosciuto vent'anni fa e non dissimile da quello dell'ISIS in Siria Allora vi dicevo del pensiero del Papa questa mattina nell'Angigus che è andato alla situazione in Afghanistan ma anche però le importanti di invocazione alla comunità internazionale per occuparsi nuovamente di Haiti lì c'è stato un terremoto c'è un bilancio assolutamente provvisorio che parla di poco più di 300 vittime ma sono ore in cui si continua a scavare lo vediamo anche nell'immagine un sisma di magnitudo 7.2 della Scala Mercalli che ha provocato il crollo di molti edifici le squadre di soccorso al lavoro per cercare sopravvissuti 11 anni fa un altro terribile terremoto di magnitudo di poco inferiore fece oltre 200.000 morti il primo ministro ha decretato lo stato d'emergenza il presidente americano Biden ha annunciato aiuti immediati da parte del suo paese ricordiamo che Haiti è tra i paesi attualmente più poveri al mondo ed è in piena crisi politica dopo l'assassinio del presidente Moise poco più di un mese fa adesso dopo tutte queste notizie sul fronte internazionale arriviamo al nostro ferragosto segnato naturalmente dalle vacanze dalla voglia di stare insieme ma anche da quel rischio di assembramenti e comportamenti non corretti che naturalmente entreranno nei controlli rafforzati delle forze dell'ordine c'è una raffica di ordinanze di raccomandazioni da parte di governatori e sindaci per evitare che la giornata si trasformi in un'ulteriore diffusione di contagio in una fase che è già delicata in cui anche l'incidenza del virus si spinge anche sui bambini ferragosto col green pass tra regole verifiche e divieti parola d'ordine impedire assembramenti il Viminale spinge sulla sicurezza accertamenti delle forze dell'ordine nelle città semideserte un migliaio di agenti schierati nella capitale potenziati i controlli nelle località turistiche attenzione alle situazioni di rischio massima allerta dice da Palermo la ministra dell'interno Luciana Lamorgese proprio in Sicilia è tornata alla stretta sulle mascherine obbligatorie all'aperto per l'ordinanza del governatore insomma un ferragosto il secondo ancora sotto il segno del covid il green pass è utile e importante raccomanda Palazzo Chigi il certificato verde che è obbligatorio anche per accedere alle mense aziendali è la precisazione di queste ore del governo dopo le polemiche dei giorni scorsi altra precisazione chiarimento o rettifica riguarda l'accordo raggiunto sulla scuola i tamponi gratuiti per i docenti saranno fatti solo ai lavoratori cosiddetti fragili che non sono vaccinabili e che risultano i più esposti al contagio il ministro Bianchi avverte i prof Novax per loro niente tamponi gratis dovranno vaccinarsi i dati dell'ultimo bollettino mostrano la curva del contagio in crescita contenuta oltre 7 mila nuovi casi col tasso di positività che sfiora il 3% e 34 le vittime dagli ultimi dati della campagna vaccinale risulta immunizzato più del 66% degli italiani sappiamo che cosa quali temi e quanti nodi ancora da sciogliere molti sono entrati nel dibattito politico di queste settimane molte legate anche alla gestione del covid e del contagio ma non solo anche capitoli che si riapriranno se come lo capiremo a settembre ma poi c'è un calendario alla mano che segna una scadenza importante quella d'autunno le amministrative 18 capoluoghi importanti da dividere tra le forze di governo e quella di opposizione e Forza Italia con dunque una campagna elettorale in pieno corso le campagne elettorali e le conseguenti polemiche politiche viaggiano a braccetto anche a ferragosto a maggior ragione quando al 3 ottobre mancano solo 50 giorni per un voto che ha molto da dire a livello locale e potrebbe risultare determinante per le alleanze sul piano nazionale a Milano stamattina Luca Bernardo candidato del centrodestra prova a chiudere la polemica su fascismo e antifascismo credo che la mia storia parli da sola io sono antifascista come credo tutti gli italiani parole arrivate dopo che il sindaco Beppe Sala era tornato sull'argomento il mio avversario ha superato il limite non è degno della città ma vuoi per il sistema elettorale a doppio turno o per le trattative sotto traccia a Milano come a Roma si guarda con grande interesse ai risultati dei candidati PD e 5 Stelle Beppe Sala su questo oggi ha nuovamente ribadito che a Milano non ci sarà alcuna intesa chiudendo così l'ipotesi che già al primo turno si possa arrivare a un accordo in realtà i pentastellati milanesi un candidato anzi una candidata l'avrebbero si chiama Elena Sironi nominata dalla base l'11 agosto ma ancora in attesa di una benedizione a livello nazionale da Giuseppe Conte per l'ex premier la partita milanese si incrocia con il nuovo corso del movimento più attento alle istanze del nord come anticipato nella lettera al Corriere della Sera ma l'appoggio al secondo turno appare scontato meno a Roma dove Virginia Raggi e Roberto Gualtieri pubblicamente mantengono le ostilità reciproche ed entrambe non chiederanno i voti ai rispettivi elettorati nel secondo turno stesso discorso per Torino mentre a Napoli la vittoria di Manfredi potrebbe dare nuovo slancio alle ambizioni nazionali per l'alleanza giallorossa ma nella testa di Conte l'assio potrebbe allargarsi ai moderati del centro-destra come anticipato da Mario Turco uomo di fiducia dell'avvocato del popolo è nostra intenzione rivolgersi ai moderati che non hanno espressione nel centro-destra sempre più sottomesso a logiche sovraniste ed estreme centro-destra mi correggo che naturalmente vede fratelli d'Italia e non Forza Italia all'opposizione andiamo adesso con le immagini che vi avevamo mostrato già nella giornata di ieri quelle incredibili assembramenti un concerto improvvisato autorizzato sarà un'inchiesta a stabilirlo però siamo in Sardegna ad Olbia migliaia di persone selsa alcuna regola alcun distanziamento ad ascoltare Salmo c'è stata una polemica lunghissima poi seguita da un intrettanto imbarazzante rimpallo di responsabilità e protocolli saltati è il concerto delle mille polemiche quello del rapper Salmo ad Olbia almeno 5.000 persone accalcate sotto la ruota panoramica poche mascherine zero distanziamento sotto accusa non solo l'artista ma anche gli amministratori locali la procura di Tempio Pausani ha aperto un'inchiesta sulla scorta delle informazioni raccolte dalla questura di Sassari non è mancato il controllo i vigili urbani hanno fatto il loro lavoro ci dice il sindaco di Olbia Settimo Nizi il palco era lì da giorni in un'area demaniale con tutte le autorizzazioni per l'intrattenimento musicale prima di Salmo avevano suonato altri artisti non potevamo sospettare niente spiega anche se lo stesso rapper aveva dato appuntamento via social nei giorni precedenti confermando il concerto ad Olbia insomma lo sapevano tutti deprecabile che sia avvenuto anche se l'artista ha detto due cose importanti aggiunge il sindaco sulle difficoltà del mondo dello spettacolo e sull'importanza del vaccino come medico l'ho apprezzato dice il sindaco che invece non ha apprezzato affatto le critiche di un altro rapper Fedez ha detto che la nostra amministrazione è malata per questo lo denuncerò annuncia Nizi il posto di Fedez ricordava l'elevato numero di contagi covid nell'isola ma il rapper aveva criticato duramente anche il collega per non aver rispettato le regole anti covid imposte al mondo dello spettacolo ma anche il presidente della regione Solinas non ha gradito le critiche del rapper non è vero che il concerto è stato autorizzato da noi come scritto dal cantante l'evento secondo Solinas è stato un errore anche se l'intento era quello di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi così però ha aggiunto il governatore si è rischiato di appiccare un altro tipo di incendio pandemico considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione adesso andiamo allo sport innanzitutto il calcio weekend intenso le prime schermaglie di Coppa Italia i campionati stranieri che ufficialmente partono e poi le trattative di mercato alcune ancora in bilico altre finalmente al punto di vista della società è giallorossa andate a buon fine perché il corteggiamento è stato davvero intenso il colpo di mercato più costoso nella storia della Roma è da poco arrivato a Ciampino Temi Abram sosterrà le visite mediche in serata firmerà un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus i giallorossi ne verseranno 45 nelle casse del Chelsea che avrà la possibilità di riprendersi il 23enne attaccante inglese ma per una cifra non inferiore a 80 milioni è solo a partire da giugno 2023 Murigno ha dunque il sostituto di Dzeko che rinunciando a mezzo mese di stipendio ha chiuso la vertenza con la Roma e si è legato all'Inter con un biennale da 6 milioni a stagione più bonus ci divertiremo la promessa del centravanti bosniaco subito a segno con la maglia numero 9 nerazzurra nel 3 a 0 alla Dinamo Kiev inamichevole una rete anche per Dybala nel test vinto dalla Juventus per 3 a 1 sull'Atalanta l'argentino ha strappato applausi ma nonostante le buone intenzioni il rinnovo di contratto tarda ad arrivare ballano 2 milioni di ingaggio e un anno di durata dopo l'ennesimo vertice andato a vuoto i dirigenti bianconeri e il procuratore del giocatore si ritroveranno tra un paio di settimane per cercare finalmente un accordo la Fiorentina continua a giudicare troppo basse le offerte da 60 milioni per Vlaovic e l'Atletico Madrid si defila dalla corsa all'attaccante serbo mentre il Milan prepara l'assalto finale per Florenzi e per il franco algerino Adli intanto l'impatto di Leo Messi con il Parco dei Principi è stato da brividi sugli spalti erano quasi 50 mila i tifosi del Paris Saint Germain per la presentazione del loro nuovo idolo sono felice di essere qui credo molto nel progetto le parole dell'ex Barcellona pronunciate al fianco di Donnarumma Sergio Ramos Akimi e Wijnaldum gli altri quattro diamanti della faraonica campagna di rafforzamento dei transalpini prima di chiudere la pagina del calcio una notizia che è arrivata poco fa ufficialmente dal sito del Bayern Monaco è scomparso Gerd Müller l'attaccante tedesco simbolo di una generazione simbolo del Bayern e della nazionale è morto questa mattina a 75 anni il comunicato e questo ufficiale lo vedete della società soprannominato Der Bomber per la sua familiarità con la vita della rete aveva dei numeri impressionanti aveva segnato 68 gol in 62 partite con la nazionale tedesca con cui aveva vinto gli europei nel 72 e i mondiali nel 74 segnando in entrambe le finali con i Bayern aveva realizzato qualcosa come 566 reti in 607 partite ufficiali adesso andiamo al tennis tanto per cambiare ancora una pagina triunfale quella della stagione azzurra in questo caso sono le donne a darci soddisfazioni Camila Giorgi che non ferma il suo cammino a Montreal giocherà alla finale è un WTA 1000 e dunque per lei un'occasione a 29 anni è numero 71 del ranking ha sconfitto in 3-7 lo vedete la statunitense Pegula continuando così il cammino vincente nell'evento in cui ha già eliminato tre giocatrici tra le 25 migliori al mondo in finale la tenista di macerata affronterà la testa di serie numero 4 del torneo numero 6 del mondo la ceca Piscova le due si sono incontrate otto volte con la Piscova in vantaggio per 5-3 nei precedenti però l'ultima occasione quel che più pesa speriamo due settimane fa agli ottavi del torneo olimpico giapponese è stata proprio la nostra Georgia a vincere con il punteggio di 6462 adesso un'altra pagina triste ma comunque un ricordo di un personaggio Gianfranco D'Angelo che avrebbe compiuto 85 anni tra pochi giorni e scomparso nella notte a Roma un artista tutto tondo e soprattutto protagonista di una pagina della nostra tv inimitabile davvero il grido Asfidanken del domatore di insuccesso Armando che cerca di far fare al suo cagnolino cose che non farà mai diventa un tormentone della tv anni 80 in uno dei personaggi più riusciti Gianfranco D'Angelo attore comico cabarettista volto di quella tv che in quegli anni ha tra i suoi simboli proprio il drive-in con la coppia D'Angelo e Ezio Greggio programma cult nell'era dell'edonismo berlusconiano della Milano da bere una carrellata di personaggi entrati nella storia della televisione quelli dell'attore romano approdato sul piccolo schermo dopo aver fatto vari lavori tra cui l'impiegato alla SIP l'azienda dei telefoni proprio da questa esperienza troverà ispirazione per il suo esordio d'artista nel 1963 a teatro con i teleselettivi alla sera recitavo in cabaret con i testi che mi ero fatto scrivere da Maurizio Costanzo che all'epoca era un semplice giornalista racconterà D'Angelo negli anni 70 sarà uno dei protagonisti della commedia sexy italiana insieme a Alvaro Vitali Banfi Montesano e Pippo Franco non cadremo mai così in basso passa per i cabaret italiani tra cui il derby di Milano l'esperienza al bagaglino e poi la sberla che consacrerà il suo dalizio con Ezio Greggio con cui condurrà anche la prima edizione di striscia la notizia indimenticabile il suo tenerone e ancora il caschetto di Raffaella Carra le imitazioni di Pippo Baudo e Lucrezia Lante della Rovere verso la fine della sua carriera D'Angelo torna in teatro con alcune commedie brillanti e al cinema l'ultimo film Viva gli sposi nel 2019 scomparso oggi a Roma 86 anni il primo a ricordarlo sui social è Ezio Greggio ti voglio bene Frenchi collega amico e fratello Hass a Svidanken con questo ci fermiamo ma c'è ancora la pubblicità e poi gli aggiornamenti non mancati tra poco di nuovo insieme il tempo per salutarvi ma anche per darvi gli ultimi aggiornamenti che ci riportano anche con le immagini che vi possiamo far vedere in diretta da Kabul la situazione in Afghanistan lo vedete una situazione apparentemente tranquilla conferma che non c'è stato scontro per l'avanzata dei talebani che hanno prima circondati e poi sono entrati nella capitale afghana nella resa da parte delle forze afghane peraltro confermiamo che ci sarebbero alcuni leader afghani in fuga dall'aeroporto quella è la zona più calda in questo momento perché si sta cercando di evacuare i civili ma soprattutto il personale anche quello italiano con un volo in arrivo nella nottata l'ultima notizia ufficiale da parte del portavoce dei talebani conferma la volontà di una transizione pacifica dei poteri con questo ci fermiamo allora al tempo di augurarvi naturalmente un buon ferragosto informazione che torna questa sera alle 20 come sempre grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti